Spiega il buon set che qui avevano forse, quando erano andati a campeggiare qua con gli scout avevano portato una pompa dell'acqua fino al primo boss in cui siamo stati Però facciamo notare che ci sono le impronte dei trattori qua Le impronte dei trattori, beh è inevitabile, se no non ci sarebbe la strada se nessuno ci andasse mai E hanno anche tagliato l'erba nei campi, quindi può essere che questi campi siano... Ah, i campi secondo me sono privati Può essere che sono coltivati d'erba medica Secondo me i campi sono privati Dipende in quale ragione ci vai, no? E qui forse, non so se ci fanno cagare nel bosco come in Valle Argentiera Perché è vicino al paese Ma io per infrangere la legge lo farò lo stesso adesso No, nel senso che c'è il costo dei cesti chimici, voglio vedervi